Come ho messo il ristorante? Eh, non mi ricordo. Sono visto un po' di biscotti, effettivamente. No, non sono tanto curiosi. Adesso di cominciamo a fare le ricette. Bravi. Abbiamo messo il ristorante che è usista ieri. Ci ha fatto due piatti buoni. No, osteria 55. Tu vedi fuori che sembra un bar. Fatti occhiato, ma siete molti. Sembra, sai, il peggior bar di Caracas. Alla fine siamo entrati Ci hanno fatto delle insalatine piccole così. 50 euro a cranio. Una roba così. Però era buco. Però era così. C'erano due piatti? Due piatti. Più una bicchiere. Non lo so, non lo so. Era una serata... Mi sembrava brutto. Però effettivamente era un po' caro. Però buonissimo. Poi mi ha regalato un libro di ricette e un liste. Mi ne faccio a casa da solo e non spendo meglio in casa. Va bene, sbaglio. 50 euro a cranio mi sembra necessario. E' un po' di più. E' un po' di più. Tu, quando è la fiera... C'era un piano. No, mi ricordo che... Sai che c'è qui? No, ma è un po' di più. Sì, però non c'è. Ma è un po' di più. Ma è un po' di più. Ma c'è un po' di più. C'è un po' di più. Il sociale... C'è un po' di più. Le regalo? Le regalo, però no. Le regalo, ma non sono i maiali di testa. No, ma devo dire... non ci vado a fare cosa giusta una cosa giusta è anche che sono teori c'è la cena tra un manzo un tiro di sangue c'è anche se può guardare esatto lo show davanti al baceno il suono del baceno c'è anche la borsa invece andiamo a Torino a presidio sabato che andiamo a mangiare il strato è il vegano come si chiama? sono tutti e poi andiamo a mangiare non ci hanno dato no no che lì che è stato fatto mi li mettono no quando? quando si fa? tutto santo tutto santo si fa? santo tu si fa? si fa che si fa? si fa che si fa? si fa che si fa? no 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 pare che sia ragazzi straordinario mi sono messa a te pare che sia roba sì no grazie ma chi c'è? 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 bravo io mi vado apposto ragazzi vado vado a prima parte eh buona serata buona serata si esatto ma vado però la macchina è mia ci metti a via ciao ragazzi ciao ciao ancora grazie prossima volta crudo mi raccomandiamo bene grazie